Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Battlelands Royale Arriviamo a 300 like, condividete il video, iscrivetevi al canale e se è nuovo vi lascio il hashtag Battlelands Royale qua sotto nei commenti Per ricevere un cuoricino e noi andiamo avanti con la nostra nuova puntata ragazzi Allora, sto registrando un po' prima quindi siete veramente in pochi online perché probabilmente siete ancora a scuola mentre la sto registrando Ho visto che ci sono due persone on tra i miei amici, Lorenzo, Ida e Lorx Che sono gli unici che effettivamente mi stanno invitando Quindi penso che sarà una puntata dove ci sono loro ragazzi Ho già messo i miei tre bonus, a questo punto andiamo a fare gioca online e andiamo a mettere duo amico Vai, gioca con un amico, vediamo un po' se posso piggiare su qualcuno di loro Non me li da neanche giocabili, probabilmente stanno già giocando Ok, Lorenzo Ida, vediamo un po' se Lorenzo Ida vuole venire con me Non me lo fa piggiare perché stanno entrando già in gioco Quindi sono in pratica solo soletto Quindi la prima me la posso fare anche solo soletto Andiamo così, vai Giochiamo qualche volta anche da soli C'ho due accumuli su tre Uno mi si è consumato a random, va bene Dai, andiamo a farcene qualcuna solitaria, può succedere Ok, dal labirinto come sempre io scendo da solo Vediamo se sono un po' ammigliorato e riesco a gestirla anche un po' da solo adesso Allora, armi, 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 armi carine Oh oh, oh oh, no, c'è altra gente Sono stato sfortunello quindi mi devo da decorsa Fammi prendere l'arma Grazie, molto gentile Lui sta uscendo da questo lato pensando che io andrò da quel lato e invece me ne vado sopra Perché effettivamente non ho armi serie Ok, abbiamo i colpi Quindi andiamo a migliorare Allora, lì, là dentro ci sono tante cure Ma in questo momento non ha senso andare per le cure Ok, possiamo andare verso di qua Sperando di non incontrare nessuno Cambiando anche arma magari Ok, questo è tipo il fucile a pompa, quello lì Abbastanza ravvicinato Allora, se stanno a meno a male questi E io de meno E mo? E mo che fai? Non ci credo Dai, non ci credo Quanti scudi c'avevi? L'odio, l'odio, l'odio Vabbè, giustamente questa era la prima partita da solo 10 dex per 2 Wow, la povertà Vediamo un po' se mi capita qualcuno che mi invita in partita O devo farne altre solitarie Da solo soletto Non mi ha invitato ancora nessuno Ok, allora vado a farmene altre da solo Dai, è così Oggi è una puntata dove giocherò spesso solo soletto Nabbo E non devo andare lì Mi devo ricordare Allora, ci riprovo qua dietro Perché delle volte là c'è la cassa Quella speciale E quindi sarebbe una buona cosa trovarla Porcavolo te pare Mordughino è forse fortunato una volta Però Però lì c'è un'arma decente C'è un'arma decentina Allora, devo ricordarmi di non andare subito a combattere dai cattiveria Perché la gente si equipaggia bene Allora, devo stare attento a non prendere quell'arma Però voglio prendere i colpi Quindi grazie Ok, molto gentile Allora, diciamo che stiamo messi bene come colpi Però entrare in questo labirinto Non è stata una delle scelte migliori Probabilmente Oggi il gioco è un po' più scattoso Chissà perché Ok, proseguiamo Usciamo da qui E vediamo di trovare qualche Shield Lì c'è un tizio Senza armi Sarebbe anche il caso di eliminarlo Acchiapparlo però Oh, cassa seria Ok, se è dato Io lo lascio andare Perché a me mi serve questa Oh Non è male la faccenda Non è male per niente Giustamente quello sarà andato là a trovare armi Io prendo munizioni da tutti i pizzi Perché le munizioni sono importanti Ok Oh, ha preso un'arma Lo vedo Eccolo Guarda che t'ho visto Oh E questo chi è? E tu che vuoi da me? Io mi allontano perché ho più raggio Grazie Molto gentile Sarebbe piaciuto fregarmi la cura Ma guardate dov'è sul bordo Però la posso prendere uguale Cala forse un po' la vita No per niente Perfect C'è piaciuto Oh, là c'era l'airdrop Quindi il tizio che abbiamo incontrato prima Probabilmente si è equipaggiato bene adesso Io non ho scudi E questo è un deficit Molto pesante Oh, c'è qualcuno Lì con lanciarazzoni Mi do Cone pro Ok Questa è buona The situation Perfetta Mi piace E io mi curo No, dai Non puoi avermi ucciso Vabbè Posizione 7 Dai, non è male Ok Quello con lanciarazzi Mi aveva preso di mira Perché è quello che ho cercato Di ammazzare all'inizio Forse era meglio che lo eliminavo Ok L'esperienza 24 Per pochissimo Non arriva a livello 8 Vediamo se qualcuno mi invita E facciamo una partita insieme No Nessuno mi invita Oggi è una giornata molto solitaria Vai Oggi mi do di cattiveria Mi alleno un pochino A giocare da solo Questa volta voglio scendere qua Città pendolari È pericoloso, eh Perché dietro al labirinto Sto sempre più tranquillo Ho notato C'è sempre più tranquillità Nello scendere Ok Allora qua ci stanno sempre Abbastanza armi Ma Sto un po' a rischio E questa non mi sembra il caso Di utilizzarla qua Ma Adesso questa non è capitata Quindi Per ora Teniamoci lei No No Sei schifoso Vattene via da me Vattene via da me Non te conosco Perfetto Sì sì Stai dietro alla casa Rimani pure là Non mi interessi Ok Vado a prendere questo Preferisco cambiare In questa situazione Preferisco stare anche Più a distanza Sinceramente Da tutti Anche se la Mi tenta tantissimo No Sta troppo lontana Presumo Ok L'area si sta stringendo Quindi è meglio proseguire Verso il centro Abbiamo le foglioline Potrei rimanere Nascosto qua Ma non mi conviene Perché devo trovare Ecco qua Un po' di scudo Effettivamente Non sto messo benissimo In questo senso Sono sempre quello Con meno scudo E con un altro Oh Dai è così Oh E quello l'ho preso Una dai Il colpetto te ho dato Quindi Do vai? Ah passi sopra Perfetto Ciao Date Gran piacere Io me do giù Anzi Prendo anche Questi colpi aggiuntivi Ok Devo dire che Questa sta andando Un po' più tranquilla Ho avuto forse Il tempo materiale E anche la pazienza Di cercare cose Invece di Attaccare subito Bottone con altri Lì qualcuno C'è morto Quindi In zona c'è qualcuno Devo stare Alquanto attento Ok L'area si sta stringendo Di nuovo Facciamo a rimanere Alle strette Oh Air drop Qua fuori Ecco lì C'è qualcuno lì E vabbè Dai Io prendo te Adesso Dai Ok È dovuto Allontanà E niente Allora Sto con 52 colpi E quella Non l'ha potuto Prendere nessuno Ah Quella C'ha più raggio De me Porca miseria Ok Mi curo Al volo Oppela Siamo rimasti In sette Che non è proprio Il top Ma Ci accontentiamo È sceso Un altro Air drop Fuori dall'area Quella è cecchino Porca miseria Quella è un cecchino Ok Dai Città No Eh no Eh no C'è un pandino Là Non lo prenderò mai Da qui Intanto C'è diventa acqua Dov'hai Dai Entrace Sto rimanendo Con pochi colpi L'ho sprecato In maniera Molto brutta Ok Quello sta Deve entrare per forza qua Dov'hai Dai Perché sono così resistenti Quanto scudo Ci hanno Va bene Dai Posizione 4 Non mi posso lamentare Ok Andiamo un po' Oggi è una puntata Sicura Tutta così Che muoio malissimo Però siamo saliti Di livello Questo è buono Cosa ci dai Una nuova Ok Va bene Non c'ho il battle pass Quindi non otterrò mai Quel bellissimo personaggio Barbuto Vediamo un po' Diamo sede cattiveria Non c'è ancora nessuno Giustamente qua mi dice Che posso cambiare Ma non ci interessa Cambiamo la bandiera Ma se mettiamo comune Primo Questo qua Vai Abbiamo la bandiera nuova E si rigioca Vai Oggi Ci alleniamo così Giochiamo da soli Perché anche questo Serve delle volte Allora Me ne è arrivato dietro al labirinto Che mi sento molto più sicuro Anzi In realtà Non dietro Davanti all'entrata Così Se c'è Vado verso la cassa Se non c'è Vado dentro al labirinto Non è una cosa Molto sicura da fare Però Però almeno Qualche arma La riprendiamo lì Vediamo un po' Che c'è Allora Quella non è che Che è molto De mio piacere Quanta gente è scesa Al labirinto Io mi allontano Mi dispiace Non è il momento Di fare i pvp con voi E in questo caso È il momento Di cominciare Ad andare centrali Immediatamente Spostarsi Verso dove possiamo Trovare degli scudi Magari Perché tanto Voi andare in giro Con gli scudi Esagerati E io ritorno sempre A prendere botte Allora Là adesso Andranno tutti Infatti c'è già Qualcuno Andranno tutti Ok Oh Qualcuno alle spalle Cosa è curato Quindi ha già fatto I pvp con qualcuno Mi stanno inseguendo Con l'arma Dorata Non va bene Questa cosa Ok Prendite un po' De danni De aria Bravo Io invece Sì pure io adesso Perché L'aria si sta stringendo Molto veloce Bel problema Questo Eh no Mi sto allargando Un po' Perché Preferisco Prende danni Da solo Che prende danni Da cosa Ok Ora bisogna Sperare solo In qualche cura Grossa Perché ho preso Un'arma dorata Oh una curetta Una curetta c'è Una curetta Ce l'abbiamo Quasi full Ci è piaciuta Questa cosa Dovrei giocare Un po' Più tranquillo Un po' Più progressivo Visto che adesso Ci abbiamo Un'arma dorata Comunque Oh Preso Due orte Eh no però Sto riprendendo danni Ok Preso Preso Olle Buttato giù Ah Cambiamo arma Mamma mia Doppio IAL Di cattiveria Quindi ho fatto Una kill Adesso io rimarrei qui Me la gestirei Attendendo L'ultime battaglie E che si stringe l'aria Sento gente che si spara Siamo rimasti in sette Sei Omar ha ucciso qualcuno Ah Ho preso vantaggio colpi Ok Prendi botte Ma perché Cioè quanti scudi C'avevi figlio Niente Io becco sempre Gente che già sta Iper shieldata Iper potenziata Che se regge Gli sparo tutto Gli sparo tutto Niente Vabbè Sarà destino Che da solo Non devo vincere Però dai Sempre tra i primi sei Siamo arrivati Abbiamo fatto pure una killetta Allora direi Di fare un'altra battaglia Visto che tanto oggi Sono tutte solitarie Perché la sto registrando Un po' prima E andiamo così Allora Si riscende dietro al labirinto Ok E vado da solo Soletto Però là ormai era lui Che stava venendo a me Quindi manca Dio Uno si salva È fortunello Ok Proseguiamo Prendiamo quello scudo Mi interessa prima lo scudo Sinceramente In questo momento Per adesso Un'arma ravvicinata Perché La devo gestire Dentro al labirinto Prendo un altro scudo Quindi GG Non c'è nessuno Nella zona dei labirinti E questo per me È un bene Perché mi dà il tempo Di equipaggiarmi un attimo Devo prendere molta con calma Sta entrando qualcuno Nel labirinto Spero di no Sono su guai Entra qua Tento Eccolo Dai È Morice Ok Mi hai fatto sprecare scudo Alla grande Però Intanto uno L'abbiamo già levato De mezzo Eh L'avevo detto Dentro al labirinto Convengono armi da vicino Visto che tanto Stiamo stretti Ok Sono refullato Mi prendo L'altro fucile a pompazza Perfect Ok Andiamo a cercare Altre cosette Quella cura La voglio levare Agli altri Quindi me la prendo io Anche per due gocce De vita in più Siamo nell'aria Fortunatamente Sta arrivando Lì fuori Quindi non ci vado Mi dispiace Arma dorata Che dovrebbe essere Il fucile a pompazza Dorato Oh Chifoso E mori Oh È morto Ma ho fatto Lo scherzetto Maledetto Due kill Portate a casa Qui c'è qualcuno Non ci voglio andare Stanno sparando Li sento Allora L'area è questa Quindi ci stiamo Stiamo nell'area Ugualmente Direi che potrei Attendere Però sono senza scudo Non ci facciamo vedere Non facciamo vedere Il nostro movimento Ok Si stanno guardando Intorno L'area è diventata Più piccola Ok Quello sta Gironzolando Posso fare un passetto Mi sposto Più in qua Ok Guardalo Niente Vince lui Porca miseria E vabbè Vabbè È entrato proprio là Dove è entrato proprio Nel mio cespuglia Rompe le bolse Non ne ho vinta Neanche una Oggi Sono tutto solo Soletto Mi hanno massacrato Di botte Mi devo allenare Un pochino Va bene Dai Ragazzi Questa è stata La puntata di oggi Una puntata Molto tranquilla Una puntata Dove sul podio Non ci siamo saliti Neanche volendo Siamo sempre stati soli Perché giustamente È un po' presto È tipo mezzogiorno È qualcosa Ecco infatti è arrivato Fox adesso Mannaggia 300 like Condividete i video Iscrivetevi al canale Se sei nuovi Lascia l'hashtag Battlelands Allo gli alco A sotto i commenti Per ricevere un cuoricino E ci vediamo In un prossimo episodio Allo gli alco